un saluto a tutti benvenuti in questo nuovo video vi farò vedere come funziona la linea ig os sul p8 lite allora per prima cosa vedete i menu come sono disposti possiamo andare a modificarli qua possiamo scegliere se mettere la barra di ricerca l'etichetta le icone nella schermata home lo sfondo scorrevole come vogliamo la griglia ad esempio vedete la rotazione se la consentiamo o no quando giriamo il telefono l'etichetta le icone nel drawer lo stile del dove possiamo scegliere se ha sezioni che sarebbe così o compatto che è come l'avete visto prima mi piace più compatto se abilità lo scoprimento veloce il tipo di scoprimento se orizzontale o verticale e se vogliamo le icone grandi o delle app protette qui abbiamo tutti i widget vedete qua possiamo impostare il nostro sfondo e andiamo nel drover allora abbiamo la possibilità di usare l'audio fx con gli attoparlanti il file la cartella file molto veloce il browser che carica molto in fretta vedete ad esempio cerchiamo linage os vedete come carica velocemente senza impuntamenti poi abbiamo la fotocamera vedete non da segni di di bloccarsi o altro andiamo nelle impostazioni come vedete tutto abbastanza fluido vi faccio vedere vedete il modello l21 che il p8 light con il 7.1 sopra giusto per conferma vedete apriamo a fare una chiamata non ho notato usando la impuntamenti di questa rom quindi la consiglio anche per chi deve fare l'utilizzo normale vedete le chiamate il segnale prende sempre bene il 4g funziona è più veloce della rom stock non ha impuntamenti secondo me è consigliata se vi è piaciuto questo video volete altre recensioni o guide sul p8 light lasciate un commento e iscrivetevi al mio canale al prossimo video avanti